Dottor Baranello, questa scala per la valutazione dell'integrazione bimanuale nel bambino, di cosa si tratta? Questo è uno strumento che è stato appositamente sviluppato e validato per valutare proprio la capacità del bambino che ha una difficoltà nell'utilizzo di una delle due mani, dovuta o a causa ad una sofferenza del cervello in epoca perinatale o prenatale oppure ad una lesione del plesso brachiale, di integrare appunto l'arto lesionato in attività bimanuali. È stata appositamente sviluppata da un gruppo del Karolinska Institute di Stoccolma ed attualmente è uno degli strumenti più utilizzati sia in ambito clinico che in ambito di ricerca a livello internazionale proprio per monitorare l'evoluzione delle capacità manipolatorie del bambino con questa patologia e anche di valutare appunto la risposta ad eventuali trattamenti specifici. Come fondazione voi fate questi corsi di formazione e di abilitazione all'utilizzo con quali partner? Questo progetto è supportato da un progetto appunto finanziato dalla fondazione Mariani che l'Istituto ha vinto lo scorso anno. Il progetto si intitola Network Italiano per le paralisi cerebrali infantili e ha proprio lo scopo quello di implementare il livello di conoscenza, di formazione e di utilizzo di strumenti innovativi sia di valutazione che di modelli di trattamento proprio basati sull'evidenza specifica, l'evidenza scientifica in questo ambito perché spesso c'è poca consapevolezza, poca conoscenza delle possibilità di applicazioni di nuovi strumenti o di nuovi approcci riabilitativi per migliorare l'evoluzione di queste patologie.